Una cosa unica Eh ma SennaPikeBot Con entrambi Allora dicono I prendi due oggetti a support Ma secondo me non conviene Se devo essere onesto No no Forse lo fanno Soltanto alcune bot Dove sanno che vengono Magari isolati Che ne so SennaPike Magari contro C'hanno che ne so KarmaKatelyn Allora lo prendono Entrambi oggetto a support Perché Per i grandi numeri Funziona Però Boh Noi non abbiamo questi problemi Soprattutto a sto elo Forse si dipende dalla situazione Oh 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 Ok La carvest Piano 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 Buono buono Fa dire che non c'è Nessuno Che venga a darci la mano C'è una ward qua dentro? No Malzar fermo sotto torre Ok tipo Vai 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 Senza paura Ok E Malzar intanto Di che si farma la midley Ma Ma per un bel po' di tempo Nemmeno ha farmato la midley Cioè lui stava in midley E basta Minion non c'erano Guardava Eh però ne ha presi sei eh Ma no Le ha presi tutti Ah beh Sì sì No prima guardava la torre Per bene Ah questi fili d'erba Bella sta nuova mappa Così ampia Oh Oh ma ha preso da lì Samira Ce la facciamo? Sta sempre avanti questo Mi sa è meglio Menea questo Ok Buono Va bene Hanno esagerato Hanno esagerato Allora facciamo così Non push Aspettiamo un attimo Per pusharla Così fanno in tempo A tornare Il lane Sennò perdono troppi CS Ma vabbè Ma adesso Non c'è bisogno di fare così Sì sì C'è bisogno Ho esagerato Ma no Ma no Allora l'importante È che i nostri aliati Non stompino È questo l'importante Fidati Allora top È fine Gara è in eccezionale Avercelo contro Perché Prima o poi vince Tutte le lane Quindi sai che Si fiderà Kha'Zix pure Jumperà in E si suiciderà Prima o poi Sì 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 Ma già sei visto Con quel flash Che ha fatto Il minuto 1 Che non è uno Proprio con la testa dritta No ma Allora la botta La possiamo hard Stompare Il problema è che Non devono stompare Gli altri Tipo Sennò è grave Quel punto E purtroppo Su quello Non ci abbiamo controllo Ma intanto Speriamo nella solo Ok Ok C'è la prendo due? Sì Non posso rischiarlo Vai 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 Ragno tu questo? No Eh quello ha preso il mio corpo Fa schifo Eh no Mi rallento E' quel problema Poi Kha'Zix ovviamente Anziché meno a questo Che lo uccidevamo Oh mio Dio Vai Kha'Zix Vai buono 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 Fa veramente cagare Sto tizio Oh No No Perché? Ma perché? Magie Non lo so Non erano ancora attivi Probabilmente 4-0 sta quel tizio Quello va killato Ah Nautilus Hmm c'è khazix che ci fa da copertura bravo ragazzo vedi che cover i nostri avversari se le cose vanno troppo bene interviene e sto un po' bassi ma no fino al 6 bisogna portare pazienza qua ma porca miseria iniziano già a fare dei bei danni questi ma una cosa prendila sulla prossima pletta così facciamo economia si 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 vai tu ok oh guarda un po' chi c'ha spicy da queste parti no oh sta andando in qua mi sa che sta andando dagli altri eccolo oh come è full hp potrei essere morto si però vorrebbe morire anche lui da isolato ma non è giusto khazix purtroppo per me non è tanto facile prendere kill ti dirò si si ma spaggia se khazix flash in fa flash sul target isolato il maledetto ah ma il maledetto non c'ha mano aspetta che vabbè ma c'ha gli auto attacchi ma si eccolo qui dannato casi eh però che fatica che fatica che fatica per noi uno due otto sono ma va le control che mettono questi oh sta ritornando il tempo visto voglio andare back basta interrompermi ok ok hanno subito le scarpe avverosi è la città di molti perché tutti i freljordiani sono una persona adesso si fa dentro con sta wave mi sa che faccio il livello 6 si oh nautilus oh oh ancora via via ok mi piace che abbia funzionato ho preso la ulti precisa appena mi ha gancato oddio eh questa è tosta questa era tosta eh un pochino si lascio a te sempre grazie giusto così è vero io non ho mai usato jinx in questa botte ma è perché non lo so sono ormai funzioniamo così capito è come nell'angolo rottura io ho sempre fatto il timo cioè un po' conoscere quei ruoli lì è difficile cambiarli ti dice affezioni poi è un po' come quando non lo so è come come moglie e marito che dormono nel nel letto ok hanno sempre la loro posizione non è che si scambiano ogni tanto c'è sempre uno che dorme a destra uno che dorme a sinistra no si yes 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 grazie paolo per il sub benvenuto grazie mille del pride grazie mille riusciranno a snorvolare allora che dobbiamo fare dobbiamo iniziare a baitare i nostri alleati gli binghiamo di baitare e poi ce ne andiamo allora comunque così è buono perché farm siamo lì top e mid non sono stati stompati il loro jungler comunque nonostante sia morto sta 5-2 quindi per adesso lo status qua è buono è questo un po' meno ho l'idea che dobbiamo baitare un fight al break e perderlo forse un po' presto esatto andare via ebbè no è una buona idea una buona idea sicuramente parire sì no è un attimo sì sì è un buon piano un buon piano si amira però costa W quando gli sniperiamo a questo oh guarda mid no ho ulto guarda quasi quasi oh brava Samira ci ha provato ci ha provato ok aiuto un po' a fare sta plate intanto e poi al prossimo giro la pulisci tu posto sennò ci mettevi un secolo sì mi piace come facciano girare l'economia da queste parti eh bisogna essere gaudi su queste cose eh sì eh sì ok buono ho il malignance mi è rimasti pochi pochi gold per l'axiom e cosa avevo fatto di secondo item lo storm su orgera sì o l'horizon mi sa lo storm vabbè faccio dai si faccio lo storm troppi danni lo storm l'horizon però ti dà più cd sì mi dà comunque quel 10% l'anno in più che pure non è male forse è meglio prima l'horizon giusto per la BDS può essere tanto alla fine c'è sto pick è bello quando siamo full build a livello 16 prima diciamo fa un po' fatica un autos van mid non pinghiamo niente vabbè che tanto c'è la ward sì c'è la ward ma chi l'ha pingato? maledetto ah no io ho pingato la ward però però dico tanto non l'avrebbe fatto una perché malzar cioè è fatto apposta per nome viego sì sì ecco qua tutta la baracca al completo direi che forse possiamo andare a prendere plate in giro la setup ho per dopo aspetta che poi la prendi tu solo dopo ok vada Samira povera che vuole difendere tra l'altro sti damage support ha pagato e fa quel danno sì fa un sacco di danno è che non ti dà statistiche quindi tanto figo però vai buono su questo lasci yes però stiamo un po' esagerando no dai lascialo io poverino no no l'ha doggiato l'ha doggiato l'ha doggiato deve essere credibile buono ottimo guarda ragazzi ho 1v2 era un po' tanto era un po' tanto chiedere 1v2 nella vita bisogna accontentarsi mi piace che top sia una brolane e non succeda assolutamente niente oh mi ha preso è più veloce di me oh muoio potrebbe accadere sì eh eh sì va bene va bene Kha'Zix sorry I don't see map you ult yeah grandi discorsi ci sono capiti solo loro e poi direi prendere l'opportunity che è l'altro item che dà più le dati in assoluto oh 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 top no no potremmo anche ultarlo noi sì sì se lo troviamo eh però oddio non ha poca vita è Garen quindi comunque secondo me ci possiamo provare se non fa la W aspetti no adesso è l'undi a livellare forse è l'undi ci dobbiamo aspettare anche lo facciamo noi però come si ammessi e manca solo lui a me penso anche a te anche a me sì ah e dai ci si può anche temporeggiare non è obbligatorio farlo subito no no ma infatti iniziamo a farmare la giungla magari oh ordentò top no troppi troppi HP hanno ancora dai farmiamo la giungla che è una cosa che non abbiamo fatto faranno due dai le oh no 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 fermali anche questo oh oh chi c'è qui questa pure oh no comparsa con baruta oh è ancora qua eh presa eh non ci arrivo però va bene il dark harvest vorrei avere qua c'ho l'horizon molto molto bene ultimi 44 secondi 11 minchi io sono al 9 ancora bisogna fixare qua vai prendi la giungla 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 come la penta la giungla giusto vieni qua il crab può essere due se arrivi prima in gazix eccomi aspetta voglio spingere di là ok ce l'ho si se faccio un'auto mi sa che muore vado a prendere un po' di solo exp vai vai intanto c'è da cdr sulla ulti certo ce l'ho nell'inventario stanno ruppati in tre vincono anche in 3 v4 questi se fai da noi lo lasciamo morire certo certo guarda che bello urgot che gioca ad un altro videogioco è 0 0 0 lui proprio non sta giocando league of legends garen non si sa come ha un assist su chi ah vabbè mi sa su no non è sull'invader lui non c'era mi pare eh vabbè muore comunque questo marca miseria vabbè qua gli do uno shutdown è così li farmo li fiddo un pochetto a questi vai 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 è necessario è necessario ci sta io ho ultato ma oh amma mia ti frego però terribili ragazzi terribile vai ca sia l'idea c'è vai magari non si muove non dà una mano al suo team Vai, 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 ce la fa, Viego, vai, 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 Viego ce la fa Non ce la fa, Viego Orribile proprio Sto facendo una fatica disumana a pushare No, ma com'è morto, Viego? Dai, ma sono tremenditi Gli avversari Sì, però, Bruno, orribile Come stai messo... Stai verso l'undici? Sì, sì Lo prendo alla prossima wave Oh, vai! Buono! Ho iltato sull'herald Paci! Niente Oh, ce l'ho fatta a fare l'undici Sta sessione di farming, simulare Bel tt, Cassio Ok, sono all'undici Uh, che fatica Ciao, Chris, buonanotte Stavano tutti i bot da me Ma non hanno cercato il cespuglio dei geni Garen sta ancora a 0-0-1 Eh, ci manca sto Garen, infatti Che succede ai mid? No, vai, la rubo di ulti questa Guarda TUNK Nooo Dai, mera precisa Intanto qua sono morto Però faccio quello che posso per l'economia del team Ci sta, ci sta Però Giusto, giusto Mi dispiace, non posso aiutarti, però non posso Non posso Guarda pure Malzar Buono 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 Adesso possiamo ricominciare a fightare Vabbè Però, cioè, sono veramente brutti gli avversari Sono veramente Lasciamo di Kalex Ah, però questo dobbiamo uccidere, tra l'altro Dov'è, Garen? Ah, è qua Guardalo Con lo scaffo Io non gli faccio niente Ma speed proprio pure ridotta e niente Eh, questo si starà a fare il coso L'ho andata Garen è qui Ma sai, non ce la facciamo, ce lo sai? Ah, con i miei danni no È tanto veloce più che altro Eh, c'ho la ult in 6 secondi Lui dopo che ha fatto Oh, precisissimo Marca miseria Ult in 1 L'ho ulto, eh Oh Un po' a fatica, ma ci abbiamo fatto Ah, gliela si fa Il problema principale era se Che è velocissimo Però fortunatamente non si è fatto di swiftness Scarpe attack speed Contro il nostro team Non belle Ah, vediamo se scorrubare 400 gold Che mi farebbero comodo Sochi, grazie mille del sub, bello Grazie, grazie mille del sub The Hunter, grazie anche a te, caro Allora 1600 Ci sono quasi Inizio ad arrivare verso te qui Questa possiamo uccidere Ha flashato Ok Oh, oh Ahia Adesso un permais lo ho guatto Porca puttana Vabbè, buona notizia ho fatto i soldi per lo storm Surge Cattiva notizia I nostri dati hanno stompato di nuovo E tra l'altro abbiamo l'Ocean L'Ocean Soul Grazie Apocali Panda per il Prime Benvenuto, caro Grazie, grazie mille Finchia la sola al minuto 23 Comunque sto velo non si può vedere Forse è stato Infernal Sarei stato contentissimo Ma è l'Ocean Tutti i draghi verdi Dobbiamo ignorarli totalmente adesso Pensiamo Proviamo a fare A chiuderci a testugine E soltanto Pushare le wave e basta E non fare altro Sono d'accordo Sì, non tocchiamo gli avversari Però Per un po' è tempo E' veramente Un trauma farmare con questo pick Oh, lascia, lascia, lascia Ignora, ignora, ignora Ma lasciamo morire No Vabbè, io già provo a lasciarlo morire Perfetto, perfetto Comunque fa ridere perché ha funzionato Ora possiamo fare una kill Guarda Ma Flash avanti tra l'altro Ho missato pure Ma porca miseria Siamo stati molto sfortunati Va benissimo Perfetto Ok, questo è un po' esagerato Però è un po' esagerato Però è un po' esagerato Sicuramente uno sprint Ma abbiamo pure l'Ocean's Hall Cioè Bisogna fare queste cose Sì Le rune sono queste Poi è che le rune pure Sono abominevole 400 wall Leccio questo E poi dopo che item Le totalità mi faccio L'Hydra Potresti eventualmente Farti il collector Così che sei sicuro Che ha kill di ulti Sì, sì, sì A voglia Oh Morto Kha'Zix Io provo a ultare qua Tanto ho un cooldown basso Magari si è messo lì A ricallare Ma più facile Più verso la top E ora è che un po' esniperate Possiamo provare Se becchiamo Aspetta fammi tip a qui Ah Abbiamo tipato C'è exp Eh, per il 16 Per il 16 Comunque farm alla giungla Aiuta tantissimo Più che altro Perché dobbiamo anche risorse Al nostro team Ah ma infatti Quindi cerca di fare obiettivi Per sabotare il team Farmare la giungla Sempre lì da migliore Perché poi Se sentono in obbligo Che fa qualcosa Quando non c'hanno più niente Da fare Ma non vedi sto scemo Però anche tu ce la fai Farmarla Io no Sì, infatti Trascio un po' The wave adesso Dalle quali Non prendo soldi Oh cazzo Non prendi niente già Quasi niente Inizio a rivenire in bot Ma mi ha visto? Non penso Eh sì Ah sì Decisa me Beh comunque W di Samura E Samira Non si gioca più Eh vabbè Ma chissà se mi ha visto Col Trinket Mi sono esposto io Boh Penso t'abbia visto col Trinket Probabile Team Gap Il famoso Team Gap Sorry Ash You better be sorry Oh Mi hanno preso fuori posizione Perfetto Quello che volevamo Certo E adesso Ok ok Io comunque sto al 15 Ah io sono all'inizio Il 4 E devo fare due livelli interi Ancora Ok 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 Il loro team non è molto simpatico Purtroppo No ma va benissimo Va benissimo Considerando che adesso Non Cioè abbiamo pochi target Anche gas sarà difficile Uccidere col Seraph In realtà Palle Amma mia Vulnerabilità Ma è veramente Danno giga negativo Comunque Con sta build Imbarazzando Che prossimo Ed è un meteo Dove dopo Faccio il Rabadon Cioè l'idea è quella Almeno Questa Samira I tabi E poi si fa l'mr Maledetta Eh si Sa tutto Sa troppe cose Meno sto prendendo Un sacco di exp Dalle wave Cosa buona Anche se non prendo soldi Oh che palle Oddio Santo Guarda la mano Ammazzatele Non meritano di vivere Dopo il chase Che m'hanno fatta Oh mamma mia Oh Mamma mia Che schiaffi Sai che forse abbiamo Un po' esagerato Nel No 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 Perfetto va benissimo Adesso iniziamo a fai dare Ah ok Ci serviva Ci serviva Ho capito Dai considera che adesso Ci hanno sempre Inganciato loro E noi siamo Più forti Alla distanza Quando pochiamo Grazie 21 gab Grazie il prime Comunque Livello Stai già al 15 Io sto a Un terzo Il 15 Adesso però Dobbiamo ricominciare A ucciderle Sì Direi sì Ci hanno L'elder adesso Quindi magari tra un po' Ah non ci possono toccare Just death È che ho bisogno Di un livello intero ancora Cioè Io Io quasi È di una difficoltà Incredibile Io questa l'ulto Subito Aspetta aspetta È l'ultata ormai 3 2 1 Mamma mia Ma che riflessi sono Non l'avevo Hittata però Non sono più bronzi Una volta Quanto ti manca? 22 Ma sì Comunque il cooldown è basso Appena il livello Possiamo iniziare a spararle A cazzo di cane Le ulti Praticamente Faccio i 3 della torre Sti cazzo di soldi Tanto non li faccio Comunque Occhio al nascio Per più che altro Ti stanno spampingando Stanno pagando il nascio Metti Da un po' la vision Presa Ma stavolta si Oh Eh basta Vabbè Sto scemo Allora facciamo una cosa D'aiuto Prende qualcosa Qui Eh prendi questi piccolini Vai L'ho presi L'ho presi Sì Almeno quelli piccolini Li puoi prendi 74% La call al Baron Beh potremmo farla Poi ci Questo ci dà un po' di exp Penso di sì Rischio che chiudano Però dai No no Tanto Resuscitano adesso Gli altri Ulti su Viego Ok ha fatto il 16 Occhio occhio Che siamo Ok Va bene Mossa L'importante è quello Allora Buona notizia Sono al 16 Anch'io Inizia l'artiglieria Sì Vado a fare un giro in top Intanto devi resuscitare Sì 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 Ora ultimi 27 secondi Tu invece Io ogni 25 Ottimo Sempre che io non uccido un avversario Eh c'è anche l'Azion 40% La cosa più bella è la letality che ho Quanto hai? 100? Aspetta Come si vedeva la letality qui? In teoria c 94 più il 30% Ah Ok Ok E mi manca un item di letalità Comunque Sei pronto? Io sparo dritto da mid lane Ok Dimmi pingami dove? Dritto proprio qua Ah Vai io sparo qui Allora spariamo qua Ok Marca miseria Questo mare lo è età? No Peccato Va bene Aspettiamo un attimo Sì Chiaramente Io ce l'ho tra dieci secondi Io ho sei secondi Spariamo sempre dritto in mezzo? Sì Ti dico Vai ho sparato Ma io sparo un pochino più Già Tardi Oh Oh E la E una Porca miseria Quanto cazzo io ho fatto io ando con lo Stormsforge Bok Adesso aspettiamo che spuona in base Vai ci abbiamo un altro giro Espella a tirare E poi la tiriamo in base appena spuona Ah non so se riusciamo a fare due giri Però Ah mannaggia c'è questo C'è Ah C'è a provarlo comunque Allora aspettiamo Questa Quanto tempo io ci vuole per percorrere tutta la mappa? Ti sei fatto tu conti? Non mi ricordo chat Quanto è? Dieci secondi tipo Ma secondo me Becchiangaren è quello il problema Che vi stai meglio Vabbè ci proviamo lo stesso dai L'occasione è troppo colosa Allora Ti dico io via Secondo me sono dieci secondi Io devo sparare dopo te Quindi dammi il via quando devo sparare Allora Sparo io intanto Vai Eh vai vado No vabbè che qualcuno in mente Oh Ma guarda come si mettono davanti poi Incredibile Però va bene dai Io tra un po' c'ho il rabato Rimanendo fermi in base Poi gli alleati fanno cose Quattro secondi e ulto Tre Due Uno Anch'io vado C'è una nuova notifica Ciao Fieric Sono passato a rinnovare come stai Ho il rabadon Tra 30 gold C'è anche questa Ulti in dieci vai Tu dovresti averla la ulti vai Spara spara Vorrei aspettare che si fermi a qualche parte Vai proviamo Si è messo davanti Ormai non ho capito Sti maledetti Vabbè noi continuiamo a sparare Altra età di dame Compro Oh Nooo Quanto sarebbe stato bello E mo ci muore pure Sto tizio Allora ci prepariamo Per la Samira Non so se faccio in tempo Io sparo Vai Sparo Spara Puoi aspettare un attimo Sono un po' troppo logica Adesso sono veloci uguali Sai Non fa nemmeno in tempo A tirarle L'artiglieria Pensa con l'elder Tra l'altro Adesso su Su vievo Per vedere giusto quanti anni Facciamo Sicuro non lo shottiamo Però Giusto perché ce l'abbiamo Allora Vai Ce vado io Vai Ok Tre No abbiamo beccato Garen Sì Però Metà vite Sparo un po' di visione Kazix ha capito Nessuno si lamenta Del fatto che non stiamo giocando Spero Mido Attendiamo che vadano Al drago Perché magari Sussamira Sussamira vai Vai ho sparato Non so se facciamo in tempo Dovrebbe stare fermo Ma rivecchiamo una cassa Cavolo L'ha scudato Pure a QSS Dai Mi sa che usciamo Dal bunker Puoi uscire Io farei un altro Alzo due colpette E possiamo anche Mirare da altre parti Non per forza Guardi che casino sta succedendo 3 2 1 Questi mesi vanno in mezzo però Qua Ho sparato qua Io pure ho sparato Da quelle parti Oh io ho sparato prima I temi sa Maledizione Io prendo il Serpent Fang Comunque perché Insieme c'è parecchie scuri Ok Parecchie Cioè cazzo Che cazzo Becchiamo qualcuno Qua sotto C'era un Nautilus Aspetta che Avevo visto Pure i vie Come pare Allora Dai prima mattina Sul Nautilus Sì Sparato lì E no Si sta muovendo Ma hai detto Spara il tuo Vai così Scliere la wave Oppure no Dai usciamo al bunker Ok Ormai hanno Hanno capito Possiamo comunque Falla sta roba Cioè Spariamo più vicino Ci sta Fammi dare un'occhiata Al Baron Eh appunto Io sparerei in base Adesso Ho sparato in base Se vuoi sparare anche te Arrivo anch'io Qualcuno ci sarà andato In base Che hanno fatto il Baron No invece no Tutti top Tutti in top Hanno capito Queste Ma perché Non sono più bronzini Una volta Purtroppo Prendo la Yomus Dai Mi tocca Perché Se no Non c'ho Move speed Do vado Ho sparato qua Non c'è spuglia Tirato pure io Ma No Ok Va bene Va bene Va bene Iniziamo Guarda qua Ma che miseria 5 secondi alla ulti Tuck Ah Oh The Brand Invece Ho avuto una sistone All'acchiadi Sotto le sue ascelle Aiuto Vi stanno sbitragliando i video Io non posso cleararli questi 3 secondi alla ultima Sparo Guarda Eh no La GA la togliamo Tanto col cooldown Che abbiamo Ne togliamo Cioè Ne spariamo Al 3-6 Ok 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 in serio Sono messo avanti il meno Questo avrà a muore Ulti in 7 Invece no Cavolo Porca Ma da dove è arrivata questa Ma lo so Comunque non sono Iron Tunk Ho shottato Nautilus Avessimo avuto la soul giusta Sto game Eh Siamo proprio sfortunati Con le soul Anche la cloud non era male Tutta quella move speed Cioè La potevamo dire a dritto proprio Comunque la mia W fa mille danni Non male Come stai messo? Riesci a bene di buzz Per fare qualcosa Tipo Non ancora Vai Tirano ulti mid Quasi quasi Aspetta Aspetta un attimo Tra 7-5 secondi No nintendo switch Sparala adesso dai Con lo scaffo Vai spara Yes E che secondo me Loro la vedono Minchia l'ho sparata stortissima Si la vedono poi i minion La vedo Oh però Eh però Uuu Nautilus Era storta Ma era storta giusta Se ci sono i minion La vedo Grazie Alex Ricci per il resub E Teoz per il resub Bentornati ragazzi Causdimon grazie anche a te Matteo porta grazie il resub Oh questi qua Niente Garin Mi sta frullando Vabbè Non è male che è scarso 9 secondi alla ulti 8 7 6 1 Molto molto bene Abbiamo l'elder ora Riusciamo a farci 30 secondi Allora forse C'è una porra E mi arrivi Nautilus Chissà mira C'è hard counter Proprio Eh lo so C'è andata molto male Purtroppo E poi è l'unico champion Di loro Che one shot 100 Forse anche Cassio Nonostante lo scuro Sì 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 Io l'ho fatto metà vita Con una ulti Ma è l'elder L'elder comunque Un bel execute Riusciamo a one shot Aspetta 9 Forse stavo guardando Alla loro base Potrebbe essere Mi spiace però Fare l'elder Senza delle Gritto Bloom Cosa fa sto a fare Ma che cazzo Me ne frega Ma perché dici Da magic pen Però sto punto Voidstaff Sì ok Quindi c'ha ability Ace ma Voidstaff No Voidstaff Tutta la via Io più che altro Vero vendermi le scarpe E farmi il cosmic E poi se ce la faccio Vendere l'oggetto Da support E fare il Voidstaff Però non so Se sarà Lo possiamo uccidere Forse Perché non Shadowflame Perché io sono Quello che deve Evitare prima La ulti Deve evitare Quando è a full vita Il nemico Perché lui dopo C'ha l'execute Meglio facciamo Penso Stanno vision Loro Ulti qua Ho evitato qualcuno In bal Ma guarda quanto Gli ho fatto Stava a un pelo E del Beh Non ha magic resist È un or del vero C'ha una marea d'HP Non ha nemmeno Qui Facciamo il Nashor Nashor Così guadagniamo tempo Occhio non faccio One shot a noi Lasciamo per cercare Quest'altri Perché Eccolo infatti Preso Come non l'ho preso È il famoso dislivello Delle fiume Questo Eh io Presetto E tip Hai tutto? Eh Ho quello che devo avere 930 di apicum Allora Tiriamo un ulti Vai Su Samira L'ho tirata L'ho tirata Un po' Più di qua Un po' Storta Sì Va bene Va bene Non è un problema Non ho più possibilità Di stare Sì Tanto finché Pushiamo questa wave Sempre dietro a uno Come Kha'Zix Che c'è Face check Al posto nostro Oh Ah ok L'hai killato Dove c'è il tizio No No Oh Camiderio Oh Oh Hello Stunk Che dire Ce l'abbiamo fatta Ah ci sono stati Due o tre One shot Bellissime Poi purtroppo Il più basso È più È più divertente Perché non imparano mai Cazzo Questo è un imparato La terza volta Samira era già pronta Con lo scudo Però sta combo è diventata Molto più forte Rispetto a prima Sì 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 Il malignance È fortissimo Anche quel coso Che ti dà Di infinito È Cioè sono entrambi Veramente Forti Per quello che vogliamo fare C'è una letale di assurda Cioè prima arrivavi Al massimo a 80 Letale di Io stavo a 115 120 Una roba del genere Erano vei danni Comunque Porca troia Cioè Serve semplicemente Trovare contro Intanto È